Il segreto dei supercentenari è nel loro sistema immunitario, è quanto emerge da uno studio giapponese del Center for Integrative Medical Sciences di Yokohama. Gli autori hanno scoperto come la superlongevità potrebbe essere in parte spiegata in una espansione delle cellule T, deputate a uccidere cellule infette o anormali. In altre parole, i supercentenari, hanno osservato i ricercatori, generalmente tendono a trascorrere la maggior parte della loro vita in buona salute e ciò suggerisce che il loro sistema immunitario mantiene la capacità di combattere le infezioni e il cancro.